Le regole del cammino in viaggio verso il tempo che ci attende. Il titolo del libro di Antonio Polito ha offerto lo spunto per una conversazione del vice direttore del Corsera con il cardinale Matteo Zuppi che ha avuto luogo al villaggio della Speranza presso Villa Pallavicini nell'ambito delle serate della rassegna Liberi di cui sono protagonisti personalità della cultura, dello sport e dell'arte. Massimo Ricci ha moderato la serata partendo dall'assunto che il mettersi in cammino è sinonimo della ricerca di senso. Già nella Bibbia camminare è sinonimo di vivere con tutto quello che comporta di scelte, di ricerca, di incidenti, ripartenze, di tensione verso una meta. Polito racconta nel volume l'esperienza del cammino di San Benedetto da lui percorso subito dopo il lockdown stretto dell'anno scorso. Il percorso che attraversa alcuni degli scorci più belli dell'Italia centrale collega la città natale di San Benedetto patrono d'Europa con la sua tomba nell'abbazia di Monte Cassino passando per lo specco di Subiaco dove il santo condusse un periodo di vita eremitica. Sono luoghi cari anche al cardinale Zuppi e alla storia della sua famiglia. L'esperienza del fisico bisogno di uscire di casa dopo le restrizioni apre importanti riflessioni anche sulla ripartenza necessaria dopo la pandemia. Il cammino è un grande stimolo al pensiero, alla riflessione, anche a una riflessione un po' più appartata rispetto alla vita quotidiana che invece è estremamente dispersiva. È strano, si cammina insieme ma si sta anche molto in silenzio senza rimanere mai soli. C'è questa specie di elastico che si crea, cammini in quattro, a un certo punto ti trovi vicino uno, poi mezz'ora dopo ti trovi vicino un altro, poi stai solo per un'ora. Poi c'è un modo diciamo così silenzioso e forse persino misterioso di comunicare con gli altri camminatori che noi abbiamo ribattezzato scherzando lo smart walking, cioè un modo intelligente di camminare. Dunque, chi ci sia il rapporto fra camminare e pensare è molto vero, infatti si cammina poco, è la mia impressione, ho fortemente l'impressione che si cammina poco, ma insomma capisci anche che la vita ha una meta, giustamente come ricordava prima Antonio mi sono dato una meta e giustamente commentava che non si cammina senza meta ed è molto faticoso camminare senza meta. Qualche volta effettivamente dobbiamo intromandarci se non presi da una così bulimia o restiamo sempre fermi oppure camminiamo, l'importante è camminare ma abbiamo un peccato che abbiamo perso l'orientamento, abbiamo perso, non ci interroghiamo più su dove la meta. Grazie.